Ciao! Benvenuto nel canale di AgriEuro, in questo video ti presenteremo le caratteristiche principali del prodotto. Ma prima di iniziare, voglio ricordarti che AgriEuro è l'unico e-commerce che permette una fornitura completa di pezzi di ricambio per tutta la vita del tuo prodotto, in caso di necessità, per riparazioni o assistenza, offriamo un supporto completo, grazie a una maxi-officina interna, o attraverso uno dei 400 centri assistenza partner, sparsi in Europa. Ma ora, vediamo le caratteristiche principali del nostro prodotto. Il potatore a batteria Stoker Magma e 150 LM è progettato per gli appassionati di giardinaggio più esigenti. Con un peso di soli 1,7 kg senza batteria e una barra di taglio da 18,5 cm, offre prestazioni eccellenti per i lavori di taglio domestici. Il design ergonomico con protezione per la mano assicura una presa sicura, mentre il display integrato mostra la percentuale di carica, le ore di lavoro e la lubrificazione della catena. Questo potatore è dotato di una catena da un quarto di pollice con copertura protettiva e un serbatoio dell'olio integrato, visibile dall'esterno, per una lubrificazione automatica ed efficiente. Il motore brushless riduce la necessità di manutenzione e garantisce una lunga durata. Le due batterie agli ioni di litio da 21,6 volte e 2,6 ampere ora, con caricabatterie incluso, offrono un'autonomia prolungata. La valigetta per il trasporto e la conservazione degli accessori completa il pacchetto, rendendo il stocker magma e 150 lm funzionale e facilmente trasportabile. Questo potatore combina leggerezza e maneggevolezza, eliminando la necessità di cavi e offrendo un'esperienza di taglio superiore. Visita il sito AgriEuro, e scopri le offerte nel nostro store online. Clicca sul link in descrizione per saperne di più.